Precauzioni anti-coronavirus anche in città. Nonostante la presenza di un solo caso conclamato, la studentessa ricoverata in malattie infettive e risultata positiva al test, il Comune dell'Aquila ha messo in atto una serie di misure precauzionali. Il 5 marzo riapriranno al pubblico gli uffici, ma intanto è stata fatta una massiccia opera di sanificazione, comprando anche dei detergenti, e questo è accaduto pure al terminal di Colle Maggio, frequentato ogni giorno da moltissimi utenti, sia sui autobus dell'azienda di trasporto pubblico locale. Noi da subito, nell'immediato, ci siamo attivati, io personalmente come assessorata alla mobilità, sia per prevedere la sanificazione del terminal, che viene sanificato tutti i giorni, ma anche per sanificare gli autobus, perché gli autobus sono frequentati da ragazzi, da studenti, e quindi è giusto che anche le famiglie si sentano tranquille. Ovviamente sono delle misure di prevenzione che è necessario adottare proprio per far stare più tranquilla la cittadinanza. Relativamente al terminal di Colle Maggio, si prosegue con l'opera di restyling, iniziata ormai da tempo dall'assessore alla mobilità, Carla Mannetti. A breve partiranno i lavori per riconsegnare funzionante il taperulan, che conduce dal megaparcheggio ancora gratuito, sino a Piazza Duomo, obiettivo renderlo operativo per la perdonanza in agosto. Noi abbiamo preso atto delle tre ipotesi progettuali che ci ha presentato il progettista incaricato, l'ingegner Cordeschi. Abbiamo ritenuto più appropriata la seconda ipotesi, che era un'ipotesi intermedia, che prevede interventi pari a circa 500 mila euro e la vita tecnica dell'impianto di circa 20 anni. Che cosa si farà? Appunto si farà questo intervento che non è un intervento di semplice manutenzione, ma anche di sostituzione di alcuni pezzi, un intervento importante, perché anche la cifra stessa è importante, e poi sarà rimesso in funzione questo taperulan e speriamo appunto finalmente di dare questa risposta alla città che attende veramente da decenni. Non potete avere una tempistica precisa, però insomma con la perdonanza patrimonio UNESCO, con un afflusso di visitatori che si auspica maggiore, contate entro le sale di rimetterlo in moto? Sì, noi ci siamo dati questo obiettivo di terminare il tutto per la perdonanza. Ovviamente si devono fare delle procedure di evidenza pubblica, ci sono dei tempi, però noi stiamo lavorando con una task force coordinata da Carlo Bolino e sono convinta che riusciremo a raggiungere questo risultato.